Continua sciacca la battaglia legale di Ignazio Messina contro il risultato delle elezioni amministrative dello scorso anno. Il 12 giugno Messina sfiorò il 40% e non fu eletto sindaco a primo turno per soli 18 voti. Il successivo ballottaggio fu vinto da Fabio Termine. Dopo che il TAR ha dichiarato improcedibile il precedente ricorso, confermando così il 39,9% dei voti ricevuti da Messina, i suoi avvocati hanno impugnato la sentenza e presentato appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa. L'obiettivo di Messina è ottenere la verifica delle schede di 27 sezioni e non di 9, come stabilito dal TAR. Messina lamenta la mancata attribuzione di numerose preferenze per errori che hanno indotto i presidenti di seggio a non conteggiarle, ma che avrebbero comunque contenuto una chiara volontà degli elettori a suo favore.